Amici in cerca degli youtubers nei film, benvenuti su Top Off. YouTube è una grandissima piattaforma e ogni minuto vengono caricati e pubblicati centinaia se non migliaia di video. Ma la cosa più sorprendente non sono i contenuti, ma bensì i produttori di questi contenuti, e cioè gli youtubers, che con l'aumentare della propria fanbase sono diventate delle vere e proprie celebrità, talmente famose da essere chiamati perfino a interpretare alcune piccole parti in grandissimi film. Non perdetevi questa e le prossime classifiche, mi raccomando iscrivetevi al canale. Riconoscete questo volto? Se sapete chi sono i più grandi youtubers al mondo, allora sicuramente avrete riconosciuto la faccia di Anna Akana. Lei e il suo canale nascono su YouTube tantissimi anni fa, e la sua occasione di poter emergere da quel mondo è stato nel film Ant-Man. Moltissimi dei suoi follower, pensate, non l'avevano neanche riconosciuta. La parte nel film è stata veramente minuscola e veramente molto veloce. Ma è stato sicuramente un grandissimo esordio per una grandissima youtuber. Bob Burnham è uno degli youtubers più vecchi di questa classifica. Lui è famosissimo nel suo canale, e lui più di tutti non è solo molto famoso su YouTube, ma è anche stato visto in numerose serie TV, dove ha perfino degli special dedicati, fino ad alcune piccole parti in alcuni grandissimi film. Nel film Libera Uscita, eccolo che compare come barista, dove interpreta una graziosa parte, e i suoi sketch comici in quei pochissimi secondi di film sono quasi leggendari. Ma anche Troye Sivan è veramente un famosissimo youtuber, uno dei più giovani. È iniziato, pensate, appena a 11 anni, a creare la sua fanbase, e quando ha raggiunto la tenera età di 14 anni, eccolo che è diventata una vera e propria celebrità. Ma la vera e propria fama l'ha raggiunta solamente nel film X-Men Wolverine Le Origini, dove lui è interpretato, udite udite, Wolverine da giovane. Ma non dimenticatevi neanche della youtuber Kelly Mary, e molti di voi l'avranno sicuramente riconosciuta per le sue famosissime e molto comiche web series. I suoi sketch sono famosissimi, la sua comicità è leggendaria, talmente leggendaria che, pensate, la vedremo perfino in Star Wars Episodio 8. Nel 2006 su YouTube nasce un nuovo canale, guidato da Justine Hezarik. Lei è quasi una leggenda su YouTube, perché grazie ai suoi video vlog, è riuscita in pochissimo tempo ad avere quasi 3 milioni di followers. E questa enorme fama ha portato la nostra bellissima youtuber a interpretare piccoli ruoli in molte serie tv, come ad esempio The Vampire Diaries o Criminal Minds. Ma oltre a questo c'è di più, e oltre alle serie tv che vi ho appena raccontato, lei è stata vista anche nel film Un Testimone in Affitto. Spero che come sempre la classifica vi sia piaciuta. Lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!